Ragazzi allora ho fatto un po' di... cioè giusto un po' in realtà li ho fatti tutti e 71 gli scrigni di Firenze Nord perché nell'oltrarno poi ci si andrà più avanti Qua c'è Leonardo che vuole qualcosa quindi semmai prima di andare da... a cercare sta volpe se c'è l'icona di Leonardo sulla mappa vuol dire che qualcosa da noi vorrà per forza Ma questo? Che core? Merda Va bene? Ok non ho paura di voi, non ho paura di voi Non ho paura di voi, forza Ah ci hanno tutti rinunciato perché è bello Tu eri ricco per forza Minchia se eri ricco E quelli sono ricchissimi Eh, utilissimo È stato utilissimo Bravo Ezio, ti ho insegnato bene allora Tutti i rossi che mi sono fatto con Altair hanno servito a qualcosa Va bene, me ne vado subito Ecco hai capito cosa devi fare Ok, no, devi andare giù Bravo Eh, cosa credi di fare Niente Via Non ti stiamo sospetti Anyway Che vuole Lorenzo qui? Eh sì, Lorenzo Leonardo Ma perché ricercato? Che ho fatto? Che ho fatto? Via Ce l'avete proprio con me? Lorenzo è magnifico Lorenzo è magnifico Ok, che cosa mi ha dato? Aspetta un secondo Ha un quadro di salute Buttalo via Ne è valsa la pena Assolutamente Allora Eeeh No, non me ne frega un cazzo di quello che hai da dire Ed eccoci qui Caccia alla volpe Occhio dell'aquila subito Volpe, volpino Eccolo qua Tutto bastardo Oh, i tuoi soldi Io non li ho i tuoi soldi Certo Preso subito Se lo ammazzavo tipo facevo una bruttissima fine Perciò ridammi i miei soldi e la chiudiamo Come cazzo ci siamo finiti lì? Ladro Ma tu puoi chiamarmi la volpe Al tuo servizio messer'auditore Come conosci il mio nome? Sei famosissimo Tutto di questa città è il mio lavoro Non è per questo che sei qui? In vero Devo trovare un uomo Sapere dove sarà prima ancora che lo sappia lui Chi? Borgio? Ah no In strada Grazie 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 volpe Grazie a tutti Grazie a tutti